eccoci qui ci siamo sesta puntata di catacus prendiamo qualche secondo perché come sai stefano caneo ciao un benvenuto un giorno a tutti ospite di questa sesta puntata bisogna prendere un po di tempo perché poi arrivano le notifiche le persone arrivano e poi insomma possiamo partire con casacus iniziamo anche ricordati quello che è il format di casacus ovvero la presentazione della prossima giornata anticipata però da quello che è il punto rispetto alla settimana appena passata possiamo riprendere l'iniziale casacus sesta puntata stefano caneo nostro ospite tecnico dell'atletica leggera del cuscaglieri facciamo un po il punto sulle scorse settimana per l'atletica ottima prestazione di calviapina ottava in classifica generale campionati italiani individuali di mezza maratona a foligno nel basket sconfitta casalinga per la a2 50 a 59 contro l'andros palermo doppia cifra per cotnis e striuli la quarta gara consecutiva in cui vanno di pacifra vincono anche le giovani under 16 e under 18 domenica nera per il calcio perde la prima squadra a balisardo 2 a 1 e perdono anche le squadre giovanili esordio vincente per il futsal 4 a 1 contro il virtus san sperate vedrete anche le foto nella pagina facebook del cuscaglieri 3 punti per l'ok su prato ne parleremo anche con stefano che è stato tra l'altro tecnico dell'ok qualche anno fa 4 a 0 contro il savona hc risultati buoni per i cadetti della della spada impegnati nel weekend a legnano e poi secondo stop consecutiva consecutivo per il cuscaglieri sandaliano contro la finisce pallavolo roma punto finito partiamo subito con stefano doveva essere qua con noi cammina pizzali se avete un'intervista a tre però insomma c'è qualche piccolo problema fisico che stiamo risolvendo infatti proprio oggi non è qua perché sta terminando la sua risonanza per il per il suo piede un controllo al piede in cui si sta trascinando un dolorino da tutta la stagione agonistica quindi adesso prima di iniziare per bene il ciclo introduttivo stiamo cercando di sistemare questi piccoli problemini che si siamo trascinati avanti lei comunque si sta allenando sta facendo un altro tipo di lavoro di strutturazione in modo da tenere il piede in scarico in modo da poi prepararci al meglio anche la fase di corsa successiva che sarà poi focalizzata soprattutto inizialmente su tecnica di corsa su capacità aerobica potenze aerobiche modo poi da strutturarci al meglio poi per la parte centrale della stagione cammina che tra l'altro è arrivata a quest'anno nel tra i tuoi atleti prima c'era come tecnico antonello podda tecnico di san gavino e poi insomma è passata te sì tra l'altro antonello podda che stimo e ringrazio che soprattutto è stato molto molto gentile anche nel mostrami la sua stima e nel nel fidarsi nel nel farmi poi seguire la la sua atleta in questo momento che ha portato a questi livelli quindi il merito si è arrivato a questi livelli ovviamente di e di antonio podda e anche la la stima di camilla e di antonio e di antonio mi fa ovviamente tantissimo piacere quindi adesso cercheremo di di portare avanti il lavoro che ha iniziato e ha portato avanti nel migliore dei modi il suo allenatore cercheremo di 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 stare di aumentare il livello speriamo bene adesso c'è da lavorare c'è da lavorare e siamo felici di di farlo è molto stimolante ti faccio una domanda che facciamo spesso ai tecnici allenatori che passano qui per casa cus c'è un allenatore un tecnico uno sportivo al quale tu ti ispiri allora in in sardegna abbiamo avuto la fortuna di avere e di di avere tantissimi tecnici e sportivi di di altissima di altissima fattura quindi mi confronto spesso con questi tra cui franco marcello con cui collaboro anche nelle centri valutazione funzionale con gian franco dotta che ovviamente ho avuto il piacere di conoscere abbiamo il piacere di confrontarci e spesso che è stato probabilmente l'allenatore che nell'atletica diciamo più più risalto visto che ha seguito la nazionale la velocità e anche qual campo la fortuna di potermi confrontare abbiamo abbiamo importanti tecnici in tutta la sardegna diciamo tra l'altro il piacere anche di di parlare di condarmi spesso anche con gianni pugioni che era stato anche uno dei miei atleti preferiti quando ero piccolo comunque sono cresciuto in quell'epoca quindi potere fare l'allenatore nell'epoca in cui anche lui fa l'allenatore poterci confrontare anche con con anche con trasferte fatte assieme un è un piacere un onore quindi il confronto per me è sempre molto importante infatti anche la possibilità di andare nel resto d'italia o in altre nazioni per il confronto l'ho sempre messa come punto principale anche della della mia formazione già da quando ero ancora all'università ci si confronta sempre insomma con tecnici io cerco sempre di avere il confronto quando quando è possibile quando c'è l'occasione sia con tecnici regionali se con tecnici di fuori e quindi è importante anche anche il raduno che ci sarà la prossima settimana è un'ottima possibilità per per confrontarmi anche perché direttori tecnici della velocità e questo che richiedono dal primo raduno stagionale cioè ovviamente essendo tutti gli atleti in un ciclo introduttivo da vedere dal punto di vista del del picco di diversazione ovviamente c'è poco e niente essendo appunto l'apri il primo ciclo c'è più che altro da parlare da confrontare tra tecnici per i vari metodi vari mezzi da utilizzare durante la stagione c'è un atleta secondo te delcus cagliari di cui sentiremo parlare oltre camilla allora oltre camilla ci sono tanti alcuni atleti soprattutto nel tra le categorie juniores che potrebbero venire su sicuramente c'è francesca collo che ha molti margini di miglioramento per quanto riguarda l'atletica leggera ma anche negli altri settori stanno lavorando tutti molto bene abbiamo nominato lo ok ma anche basket ha sempre fatto tantissimo ovviamente gli atleti dal buscadeli sono sempre venuti fuori per quanto riguarda l'atletica sicuramente ci sono dei dei margini per l'atleta che ho nominato ma ne verranno fuori altri sicuramente tu arrivi da un'esperienza ai cnu come tecnico due medaglie d'oro perché la 4 per cento la consideriamo come gara unica e poi giulia manno cosa prova un tecnico quando un suo atleta sta sul gradino più alto nel podio è stata una grande emozione perché è stata la prima di una serie di medaglie a quei livelli per quest'anno perché poi quei podi presi da giulia mannù federica laico la staffetta e antonio moro poi sono stati confermati anche nel nei campionati italiani di categoria in cui giulia è arrivata terza nei 100 e antonio vice campione italiano nei sempre nei 100 e che tra l'altro ha fatto anche la i giochi del mediterraneo del 23 è salito sul gradino più alto del podio con la staffetta quindi è stata la prima di una serie di grandi emozioni è un emozione indescrivibile come quando è anche più intensa di quando si è atleti quindi essere fuori e vedere da fuori i propri propri atleti atleti a quei livelli ovviamente bellissimo è una cosa che ripaga tutte le sofferenze le ansie della stagione tra l'altro quindi tra i tuoi nuovi compiti qui al CUS ci sarà quello della promozione nella scuola dell'atletica leggera qui al CUS Cagliari hai tu già un'esperienza sullo sport portato negli istituti scolastici ti chiedo come si come può migliorare questo tipo di promozione nel cagliaritano e in sardegna sicuramente con una maggiore comunicazione e coordinazione tra tecnici e responsabili della branca propaganda e sviluppo che è sicuramente una branca importante che ogni associazione sportiva ogni società dovrebbe portare avanti sia che l'associazione sia di alto livello sia che sia di piccolo livello io porto la mia esperienza che ho tuttora come responsabile propaganda e sviluppo regionale per la federazione rugby in cui appunto mi rendo conto che la coordinazione sia a livello regionale sia locale sia poi con le riunioni nazionali è sempre messa in primo piano quindi secondo me con una maggior coordinazione e comunicazione il lavoro all'interno delle scuole poi trasferito direttamente nei vari settori della società può sicuramente portare dei risultati e già ci si è attivati anche con dei progetti collaterali promossi da Alconi come per vari settori quindi sia atletica che pallavolo che basket sono come Cuscagliani inseriti in varie scuole quindi adesso c'è da continuare da cercare di portare le scuole all'interno dell'impianto 30 secondi i tuoi obiettivi per il prossimo anno continuare a fare bene riuscire a rendere felici i miei atleti è sempre il mio primo obiettivo quindi farli migliorare speriamo di aiutarli in questo speriamo grazie Stefano ti salutiamo tra poco prima di chiudere vi ricordiamo quelli che sono i nostri appuntamenti ad aprire le danze delle prime squadre ci sarà il Futsal venerdì alle ore 21.30 contro il Seregas Calcio a 5 sabato fuori casa per l'Ok su Prato alle 14.30 sul campo dell'HC Pistoia alle 15 Cusca e il Sandalion in casa contro il Volley Roma troverete l'evento sulla nostra pagina Facebook un anno dopo alle ore 16 la trasferta del basket di A2 contro la cestistica Spezzina domenica in casa per la prima categoria contro il Villa Simius alle ore 15 vi ricordo di seguire i canali social del Cuscagheri anche il nostro portale Cuscagheri.it per seguire gli aggiornamenti seguire le avventure sportive di Stefano degli altri tecnici e degli altri sportivi e ovviamente anche riguardare le puntate di casa Cus grazie mille a Stefano Caneo grazie a te grazie a tutto il Cus a presto a presto casa Cus torna 37 giorni grazie